Sono Yusef Komea, ho 16 anni e vengo da Napoli. Sono Filippo, ho 15 anni, vivo a San Giuliano Milanese. Ciao, sono Marilu, ho 15 anni, ho una serra gemella e veniamo da Pescara. Dipende, su che materia? Certo, certo. Vabbè, proviamoci. La prima è venuta prima della Seconda Guardia Mondiale, giusto? Sì, quindi... Nel 1920, 25. Seconda Guardia Mondiale, 1945, se facciamo un calcolo... 1929. 1920. 1929. Aspetta, come si chiama? Colui che tiene la roba? Come si chiama? Giacomo Lopardi. Un poeta? Un poeta? Gli Alibaldi. Dante. Madrid. 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 La Svizzera. 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 Direi passiamo. Olso. Ah, fria. Orvido. Vi, ovido. Non lo so. Me lo dicevi, mi preparavo poi. La Svezia. Norvegia. Vale dire, non lo so. 56. Posso fare i conti? 8, 6, 24, 22. 57. Ci sei? 52. La festa della Repubblica. La festa della Liberazione. La festa di... Ah, della Repubblica. Ah, ok, sì, 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 me lo ricordo. Sì. Bye. L'ONU è un'organizzazione degli Stati Uniti. L'insieme degli Stati dell'Europa. L'Organizzazione delle Nazioni Unite. E... Aiuta le persone. Via Lattea. È una via. È una via. Stratta. 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 Dove c'è la strada? È una cosa nello spazio. La Via Lattea è dove passa il latte tramite le mammelle. Cioè, arriva alle mammelle. Svizzera. Asserviamo.